Si chiama Rugby Show questo portale, perché il rugby è sempre uno show, sia quando a giocarlo sono gli All Blacks, sia quando a giocarlo e viverlo sono i bambini, sia quando gioca la Nazionale Azzurra, che quando giocano le squadre più scalcinate del nostro pianeta ovale. Il rugby è uno spettacolo per chiunque abbia provato e provi la gioia di tenere in mano un pallone ovale, ma anche per chi prova la gioia di vedere le partite, di conoscere i protagonisti e per questo abbiamo scelto di seguire tutto il rugby ligure, tutte le partite della nostra regione, tutte le attività ovali della nostra regione, dalla ProReco in A1, Alcus Genova in Serie B, fino ai concentramenti dei bambini, quelli forse più divertenti e i terzi tempi organizzati dalle Mame Catering. Vogliamo farvi scoprire le eccellenze della palla ovale, vi assicuro che ce ne sono nella nostra regione e se è il caso, anche le magagne, i problemi che impediscono una crescita ancora maggiore del nostro movimento. Rugby Show comincia e lo fa con l'entusiasmo, la voglia, la sicurezza di avere le solite grandi risposte da tutti i protagonisti e da tutte le società del rugby ligure. Coinvolgeremo tutti, ma proprio tutti i reggwisti, dai più piccoli, come detto, a quelli che non si arrendono all'età e continuano a combatterla come sanno fare, come hanno sempre saputo fare, cioè sul campo, con una palla ovale in mano. E ci piace, cioè non ci piacerebbe, ma per mille motivi ci accarezza un po' il cuore dedicare a questo lavoro a chi non c'è più. Si dice che i vecchi reggwisti non muoiono mai al limite, passano la palla. Stefano Bianchi non è più con noi da poco, ma troppo tempo e a lui va il ricordo e la dedica di questo portale. Si chiama Rugby Show.